Ciao amici di Fantapaz, oggi nuovo video sull'Ecce, che ha mantenuto l'ultimo allenatore, Gotti, che insomma ha molto apprezzato anche a livello social e che ha fatto comunque molto bene, perché ha preso la squadra, sì, che non rischiava la retrocessione, cioè era comunque una buona posizione, ma l'ha salvata con anticipo, insomma. Gotti, Corvino, in cabina di regia hanno fatto l'ennesimo miracolo, anche perché, soprattutto vedendo quanto spende il Lecce, pochissimo rispetto alle avversarie, anche avversarie che poi sono retrocessi. Quindi parliamo di Gotti, Gotti, allenatore vecchio stile, come detto prima appunto, molto apprezzato sui social, ma al di là di quello non è solo un allenatore da meme, ma è un allenatore comunque serio, importante, che che fa sa far giocare bene le squadre, poi come abbiamo detto anche magari per Nicola, per D'Aversa, per altri allenatori che ho fatto in analisi tattiche precedenti, è anche vero che se hai un tipo di squadra non puoi giocare facendo passaggi continui, uno, due, scambi veloci, dipende anche dalla squadra, del tipo di atteggiamento. Poi Gotti ha allenato quasi sempre squadre di bassa classifica, quindi diciamo che si è adattato, forse non è detto che sia sempre questo il suo modo di giocare, ma insomma questo è stato sempre il suo modo di giocare, almeno in Serie A. Quindi diciamo abbastanza classico, squadra che ha un baricentro molto molto basso. Alle volte abbiamo visto il Lecce, in realtà ci sono state le partite in cui il Lecce ha alzato un po' la sua linea difensiva, forse quando ha preso un po' più di consapevolezza, Pongracic stesso ha guidato la linea difensiva ad astare un po' più alta, magari anche nel periodo in cui mancava banda, quindi c'erano meno ripartenze, perché comunque sì, è vero, poi Gotti ha adattato Dorgo a sinistra, perché avere Dorgo e Gallo, avere uno tra Dorgo e Gallo in panchina era uno spreco, effettivamente, e l'ho adattato lì a centrocampo, però insomma, esterno offensivo nel 4-4-2, 4-2-3-1 poi è diventato, appunto tante volte ha giocato con Cressovic e piccoli davanti, non sempre Almquist a destra, a volte Udale, a volte Uden, qualche volta addirittura ha giocato anche con Gonzalez, spostato a destra, quindi molta duttilità, molto pragmatismo, quindi cercare di smettere i giocatori migliori nelle condizioni di, quasi tutti in campo, nelle condizioni di dare il meglio, quindi appunto Dorgo si è esaltato lì con le sovrapposizioni con Gallo, Gendrei anche è cresciuto, perché comunque ha avuto maggiore spazio rispetto a quello che aveva offensivamente magari con D'Aversa, o addirittura con Baroni l'anno scorso, quindi si è spinto molto di più in avanti, perché c'era una bella cerniera difensiva, formata da Ramadani e Blen, adesso arriverà Pierret, portiere molto forte, quindi però insomma il cliché del Lecce è quello, insomma, fase difensiva molto attenta e poi ripartenze, verticalizzazioni veloci, che a inizio stagione, che in realtà non c'era, c'era D'Aversa ma non c'era Gotti, però anche con Baroni, sembra che comunque all'inizio dell'anno il Lecce, nonostante faccia poi dei cambi, non tantissimi, divende poi chiaramente le recessioni, riesce sempre a partire molto bene, corre più degli altri, e appunto sfrutta la sua velocità, banda all'inizio Anquist, che poi il calta poi ha parecchio deluso, però quello è il tipo di gioco, insomma, quindi non ci aspettiamo il Lecce di Gotti, che appunto faccia uno o due passaggi continui, numero di passaggi molto alti, ma più che altro che appunto appena prende palla, transizione positiva, lancio lungo di Ramadani, o verso l'esterno, verso Krestovic, che magari tiene palla, la smista sull'altro attaccante o sull'esterno, con banda appunto, con Dorgu e con altri giocatori, Tete Morente che adesso è arrivato, che in realtà è un altro tipo di giocatore comunque, non è un velocista, poi ne parleremo quando parleremo dei nuovi arrivi specifici del Lecce, e quindi andiamo a vedere adesso la lavagna tattica, insomma, quello che potrà essere il Lecce di Gotti, e poi torniamo per i calci piazzati. La lavagna tattica del Lecce, ho schierato la squadra con un 4-4-2, anche se in questo momento manca una seconda punta, perché comunque fino all'anno scorso c'era piccoli, questo 4-4-2 spesso può trasformarsi in un 4-2-3-1, in cui qui va a giocare un trequartista, e qui ci sono gli due esterni, in cui comunque in ogni caso c'era spesso Dorgu molto avanzato, e come vi ho accennato, e comunque ne parleremo quando tratteremo i nuovi acquisti del Lecce, in un altro video, il Tete Morente è un giocatore comunque offensivo sicuramente, perché ha sienato 8 reti nell'ultimo anno, è un giocatore che comunque ha sempre giocato come ala, però ha una predisposizione difensiva, quindi diciamo che forse non è tanto fantacalcistico, perché comunque 8 reti è il suo record stagionale, è il suo record in carriera, ed l'ha fatto anche nella serie B, la seconda spagnola, quindi non parliamo di un giocatore che difficilmente potrà fare tantissime, anche se ha un bel tiro, potrà fare tantissime reti in questa squadra, però insomma, l'attenzione di Gotti, in linea poi più o meno come tutti gli allenatori del Lecce, da quando è tornato in Serie A, è fase difensiva molto bloccata, soprattutto con i centrali, un po' più di aiuto da parte, rispetto magari al periodo con D'Aversa, i terzini salgono un po' di più, quindi vedremo comunque, se resteranno Gendrei e Gallo, spingere abbastanza comunque in alternanza, però Gotti è un tipo di allenatore, se vogliamo vecchio stampo, in cui comunque faceva salire anche i terzini, in alternanza tra, non magari appunto tutti e due, come spesso succede con qualche allenatore moderno, che vediamo i terzini all'avanzare tantissimo, lasciando i centrali, magari facendo scendere il centrocampista, lui comunque di solito, se sale Gendrei non sale Gallo, e se sale Gallo non sale Gendrei, e con l'aiuto comunque di Torgu, che difensivamente non è fortissimo, però in fase offensiva era straripante, a volte, soprattutto nel finale, Morente in realtà è un, in quel ruolo potrebbe giocarci, anzi, forse potrebbe, ci giocherà Banda, non escludo neanche che in un 4-4-2, possa essere Banda, a giocare al fianco di Krestovic, perché comunque Banda è una risorsa preziosa per il Lecce, e non è detto che arriverà un secondo centravanti, o comunque sicuramente forse arriverà un secondo centravanti, ma non può darsi anche che non faccia le partite che poi ha fatto, da quando è arrivato Gotti, le ha fatte piccoli, quindi non escludo che magari Banda possa fare l'esterno, la seconda punta che si muove attorno a Krestovic, perché comunque Krestovic è un giocatore che sa tenere molto palla, forse non ha segnato e non ha nel piede e nella testa tantissime reti, però questo lavoro di sponda, di raccordo con il resto della squadra, di far salire la squadra, di tenere palla, è comunque qualcosa che lui sa fare molto bene, quindi secondo me, se dovessero restare tutti ovviamente, poi come detto ne parleremo quando il mercato sarà un po' più nel vivo, mi aspetto che Banda in questo momento possa fare la seconda punta, e Tete Morente possa fare, tra l'altro può giocare anche a destra, potrebbe anche fare l'equilibratore a destra, visto che comunque manca Alquist, lui tendenzialmente è sicuramente un destro, tendenzialmente ha giocato a sinistra, come alla sinistra, però ha giocato anche a destra, quindi non è da escludere in assoluto questa possibilità, e qui abbiamo Ramadani e Oblen, o Pierre Re, che è il nuovo arrivo del Lecce, e poi vediamo anche, insomma qui abbiamo Baschirotto e Porgaci, Porgaci ci ha fatto un campionato straordinario, anche sfruttando il fatto, secondo me questa situazione ha aiutato un po' più Baschirotto, che comunque non ha fatto una stagione pazzesca, però la difesa bassa in generale aiuta Baschirotto, che comunque è molto forte sul duello fisico, sul duello aereo, però pecca un po' quando viene un po' trascinato fuori dall'aria, perché non ha la velocità, non ha l'agilità, e non ha forse anche le doti, insomma, tecniche e tattiche, per muoversi, quando viene tolto dalla sua zona di competenza, che insomma è l'area di rigore, Pongaci magari ha un piede diverso, ha un modo di giocare diverso, più qualitativo, e anche più forte in un uno contro uno, anche in velocità, quindi questo potrebbe essere comunque, in generale Lecce non si discosterà, che sia 4-4-2, che sia 4-2-3-1, come dimostrano anche i dati, insomma non è una squadra che aggredisce qui, non aggredisce neanche sulla tre quarti comunque offensiva, ma più sulla tre quarti difensiva, che è più o meno la zona attorno al cerchio di centrocampo, quindi magari contrasta molto in questa zona, perché gli attaccanti comunque, nella prima pressione ci vanno, vanno ad attaccare gli avversari, però gli altri invece scappano indietro, quindi è un discorso di baricentro molto basso, per poi cercare, e non tanto con un palleggio chissà che clamoroso, ma appunto la palla dovrebbe finire su Ramadani, o appunto avendo anche queste capacità per cercare gli esterni, per cercare o la progressione dell'esterno, eventualmente a sinistra o a destra, oppure subito cercare le due punte, e provare in questa situazione, quindi verticalizzazioni rapide più che altro, insomma come abbiamo visto anche dopo l'Udinese, il Lecce è stata la squadra che ha fatto più verticalizzazioni, o meglio meno possesso palla di tutti, quindi non è una squadra che sta lì a palleggiarsela, ma è una squadra che subito appena prende palla, in fase di transizione positiva, subito dà la palla in avanti, quindi questo è più o meno il gioco storicamente del Lecce in realtà, ma quello con cui ha proseguito Gotti, ed è anche per quello che forse Corvino ha fatto questo tipo di acquisti, che vuole una squadra che comunque sappia difendere molto bene col 4-4-2, che parta anche col 4-2-3-1, ma comunque che sappia difendere molto bene con due linee organizzate di difesa e centrocampo, quindi questo è più o meno come giocherà il Lecce, e torniamo in studio per i calci piazzati. Calci piazzati non solo di Gotti, perché appunto lui era arrivato verso la fine, ma anche di D'Aversa, quindi Lecce dopo il Cagliari è stata la squadra che ha subito più gol, non ne ha segnati tantissimi, l'anno prima qualcuno in più, però insomma i calci piazzati sono una nota dolente, perché ne subisce veramente tanti, subisce tantissimi gol, è un qualcosa su cui Gotti, che è corresponsabile di questi gol subiti, dovrà sistemare poi durante l'estate, durante il ritiro, perché è vero che il Lecce si salva sempre con anticipo, ha un grandissimo direttore sportivo per questo livello, però non sempre ci si può affidare solo a quello, insomma subire meno gol, farebbe, magari in quest'anno avesse subito meno gol, si sarebbe salvata forse addirittura ancora prima, rispetto a quando si è salvata, e quindi ogni anno è diverso, arrivano agguerrite squadre dalla Serie B, quindi non è sempre lo stesso campionato, subire meno gol secondo me è un imperativo, insomma, l'ho detto anche in altre occasioni, se ci sta guardando stavolta Gotti, insomma consiglio di lavorare sui calci piazzati, non glielo devo dire io, ma insomma per uno scambio anche simpatico, se mai dovesse accadere, perché è una nota dolente, è una nota dolente, quindi, ma lo sa sicuramente anche lui, tutto lo staff, i match analyst, insomma, non lo sapranno sicuramente, però insomma lo ribadiamo, anche per i fantacalcisti, il Lecce è una squadra che subisce tanti gol, e non segna tanto, tanto per sopperire a questo, quindi calci piazzati, nota dolente, questa mi sento di dire su Lecce, perché i dati oggettivi dicono questo, e io vi saluto, vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto il video, insomma come sempre, cerchiamo di analizzare per bene, praticamente la squadra, come può giocare, perché il contesto, come vi ho detto anche in altri video, e ogni tanto mi ripeto, ma perché appunto, penso sempre che sia il primo video che qualcuno guarda, e quindi è giusto ripetersi, e sono fondamentali, per capire il contesto, e per capire che tipo di giocatori poi dobbiamo prendere, perché appunto magari, faccio una piccola postilla, se noi prendiamo giocatori di palleggio, Lecce prende giocatori di palleggio, anche se Corvino è molto bravo a prendere giocatori adatti al mondo, in questo tipo di calcio potrebbe trovarsi bene, mentre un giocatore magari non fortissimo per un'altra squadra, che però ha nel contropiede, nell'attaccare la profondità, nella vera una grande velocità, magari in una squadra diversa, può fare male, nel Lecce invece si trova proprio nell'habitat ideale, quindi questa è l'idea più o meno che voglio dare facendo le analisi tattiche, quindi ancora una volta vi ringrazio, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao, ciao a tutti.